Questo vale per SEA, vale per la 2A, vale per ogni partecipata. Non abbiamo nessuna esigenza, siccome abbiamo un debito totalmente sostenibile, di vendere per fare cassa. Io ho sempre detto e continuo a dirlo, se ci fossero occasioni di sviluppo industriale nell'interesse del Paese, di aggregazioni, eccetera, eccetera, il Comune può considerare un'attivuizione, ma ripeto, non per fare cassa, per fare un progetto che sia nell'interesse del Paese. Insomma, noi siamo anche il Paese in cui ci sono tanti aeroporti, tante fiere, tanto di tutto e poca capacità di integrazione. Io sono per l'integrazione.